Allora, dicevamo benvenuto al nostro maestro di Galateo, oggi addirittura qui con tutta la sua grazia. Quest'anno abbiamo deciso di affrontare il tema spinoso di attualità della settimana precedente e di rileggerlo agli occhi del Galateo, delle buone maniere, cioè come ci si sarebbe dovuti comportare. E chiaramente poi questo crea un aggancio anche con la quotidianità, con tutto quello che anche questa sera può succedere o anche oggi pomeriggio ad un ascoltatore che può mettere in pratica ascoltando le parole del nostro esimio maestro. Salva son dir. Il caso della settimana scorsa è stato il caso Polverini, non ce n'è. Allora, Polverini costretta, diciamo che finalmente dopo un lungo parto alle dimissioni... Stranamente anche, perché io non l'avrei mai detto. Infatti, per una volta tanto sembra che abbia vinto il senso, anche se in ritardo, il senso di responsabilità. No, comunque no, nel senso che parlare di senso di responsabilità e di Polverini mi sembra un accostamento ardito. Comunque, quello che poi è salto dall'occhio è che nella sua conferenza stampa, molto così accorata, è quello che tutti ricordano è che li mando a casa io questi qua, li mando a casa io. Ora, sembrava veramente l'apogeo, il non plus ultra dello scaricabarile, perché chi li ha portati lì? Se tu eri presidente della giunta regionale... Ah, saperlo. E quindi, un po' la domanda è come si è comportata, cosa avrei voluto fare, soprattutto nella quotidianità nostra, lo scaricabarile è sempre un atto deprecabile? Domanda delle cento pistole, in questo caso, anche perché in Italia, che è il paese dello scaricabarile, del panciafichismo, del trasformismo, delle cose più turpi del mondo... Il panciafichismo, vedo che... Il panciafichismo mi piace. Questo ce la rivendiamo, eh? Non potete rivendere. Su panciafichismo, quella roba lì, conto di tirare su due lingue. Sì. E anche un numero di... Eh, direttora... Eh, sì, vuol dirmi che cosa vuol dire, Giacomo? Guardi, faccio, il panciafichismo l'ho usato anch'io in tal senso, mi ha giovato, in effetti. Eh, lo sapevo io. Che cos'è il panciafichismo? Perché poi la femmina, il panciafichismo, la garba, perché è un po' cicciotto, no? Per definizione, come termine. Quindi si sente anche in qualche modo sdoganata nelle sue forme... Assolutamente, nelle sue rotondità. Che noi apprezziamo tanto. Che noi apprezziamo sempre. Perché noi, tra l'altro, di cui siamo Alfieri, noi stessi. Alfieri, Alfieri, Alfieri. Alfieri, Cavallo e Torre. E Torre, vessilliferi anche, perché ricordiamoci che poi il vessillo si inalbera. Per cui, in questo caso, facciamo una citazione più che giusta. Che cacchio vuol dire panciafichista? Ah, panciafichisti era un termine molto in voga, diciamo, dopo la Prima Guerra Mondiale, fino anche negli anni Trenta, che vuol dire un po' cerchio bottista, no? L'altro sinonimo. Però panciafichista ancora meglio, perché quello anche che se la magna, insomma, la botte e anche il fico. E tornando a Bomba, per identificare, insomma, le varie grazie della Polverini, forse l'unico suo dato positivo, in senso di Galateo, è che si veste benino. D'altra parte, va detto che la Polverini è veramente brutta. Ma no, ma no, ma è vero! Effetticamente, beh, certo, non è una bella donna. Nel senso che ha in sé, non è una siluetta apprezzabile, sicuramente, infatti veste bene. Però ha, voglio dire, come dicevano i greci, no? Il contrario del kalos kagatsos è il kakos, cioè il terribile. Si traspare la nequizia dai suoi tratti oscuri, perché sembra una strega, sembra la famosa strega nocciuola, no? Quella che noi abbiamo visto sdoganata da Walt Disney. È veramente bruttarella. Per cui si ingentilisce con pizzi etrine elaboratissime e con macramè diffusi, però non riuscendo in questo intento, insomma, diabolico. Infatti si vede che poi, nelle sue varie manifestazioni di fascismo ultra, no? Quando mandava a quel paese la gente, insomma, con questi toni, sempre ton sur ton, in questo caso. Cioè, è un po' come il vestito ton su ton, cioè prima un tono e poi rialza ancora di più il tono. Eh certo, poi sei sempre nero su nero, signori, adesso. Non per fare della politica d'accatto, però ci va detto che in questo caso, e per rispondere alla domanda dell'Augusto Collega... Finalmente, grazie, dopo sei minuti... Domanda che è stata fatta otto minuti fa. È stata otto minuti fa. Cioè, ritornando sempre al panciafichismo, no! Lo scaricabarile non è veramente, quello che gli inglesi dicono, despicable. Cioè, veramente, veramente inaccettabile. Faccio l'avvocato del diavolo, della coatta, se preferisci. Pure! Visto che... Ha fatto il linguino, l'ha fatto con lei, no? Io spero con lei di no. Di quello si parla, vado a chiederti... Ma, scusami, il Galateo apprezza però il colpo di genio, apprezza... Sì? Ma il maestro di Galateo sta manducando una cicca, gazzo! Era la domanda finale, la prossima volta che vieni con la cicca in onda... Ma sei, ma è inaccettabile! Ah, lo so, americano! Ti strappo i peli della barba uno per uno con le piacere. Ma non si sente! Ma cosa no, la bocca aperta la stai mangiando! Ma che schifo! Non è vero, non è vero, nego, nego. Scusa, Facco, ti abbiamo interrotto. No, è che questo, scusate, questo è un attacco politico del Facco, che è un fan della Polverini. Io questo lo so e lui l'ha detto e per cui sì, lo sappiamo. Sai che mi portava di là, dicendo, fuori in cortile, dicendo... Comunque, guarda, adesso a me dispiace, mi dispiace tantissimo, poverina, che debba cedere, guarda... Io sono un fan dello Spolverino. Ah, è vero. Sì, vabbè, dicono tutti così. Avevi quasi capito tutto. Tornando a noi, il Galatteo non apprezza il colpo di genio, il salvataggio all'ultimo minuto, lo sgurz di, non so, salvatore Siana a memoria dal film, piuttosto che quello di Amici miei, quando descriveva il genio applicato... Colpo d'occhio, rapidità di esecuzione. Ecco, quella roba lì, ecco, il Galatteo lo apprezza, però a volte, voglio dire, il colpo di genio per salvarsi nel finale può essere sovrapponibile a quello che alcuni chiamano lo scaricabarile. Sì, questa è un'interpretazione, se vogliamo, benevola, insomma, di questo branco di predoni che stanno depredando le nostre tasche nel nostro paese. Ciò detto, però, va anche detto che noi preferiremmo, ovviamente, che facessero tutti questi colpi di genio, questi sgurz, li facessero in Uzbekistan. Per cui, in questo caso, noi li apprezzeremmo meglio. Non so, credo ci sia una cittadina che si chiami Tashkent, non so se è in Uzbekistan. È la capitale dell'Uzbekistan. È la capitale dell'Uzbekistan. Ecco, allora, noi la Polverini, a capo della regione di Tashkent, che però non arrivo a questa competenza regionale, la vediamo bene e noi la apprezziamo in questo suo sgurz. Per cui va a D con la Y finale nell'Uzbekistan e noi lì avremo più agio di apprezzare questa indicazione che ha dato il facco. Allo 0-2-33-0-0-1-0-0-1, naturalmente, siccome abbiamo anche più tempo del solito, è possibile fare delle domande, chiaramente rimanendo nell'alveo della situazione scaricabarile. Tu sei sicuro. Al no, sì, sono sicuro. Cioè, tu, sono sicuro. Scusami, l'avevamo messo ai voti questa cosa, non me la ricordo. No, è colpo di mano. È colpuro colpo di mano. Lo sgurti, sì, è il guida. E il guinzo. No, dicevo, domande al nostro maestro di Galateo, ma anche allo 3316214013 per domande più circostanziate via sms. Sai cos'è? Che volevo interrompere a metà, per dare un po' di respiro a tutte cose, con una bella canzoncina. Ma sì. Di versare anche quell'altro coso. Sì, lo so, è questo qua. Questa è la novità, eh? Novità, novità. Novità dal Messico, eh? Non ci facciamo mancare niente. Nulla. 0-2-3-0-0-1-0-0-1, o per gli sms, 3-3-1-6-2-1-4-0-1-3. Le diciassette e undici minuti, ma prestissimo. Giovede che non c'era la pubblicità dalle diciassette, quindi siamo andati veramente con agio verso questi lidi in cui è eroe il nostro maestro di Galateo. Abbiamo ascoltato la separata alla nascita di Nina Zilli, questa qua, perché è uguale. Dai, una Nina Zilli meno affascinante. No, è affascinante anche lei. Mette delle tute, a differenza delle cotonature della Nina, però, insomma, si somigliano parecchio. Una Nina Zilli che si veste, ma peggio, possiamo dire così? Sì, che si veste in un grande, in un outlet dell'Adidas. Cioè, era Anna Tijoux, come tutti i brani che mettiamo in onda, vi ricordiamo che in tempo reale li trovate sul muro di Facebook. Arriva Vsms, una segnalazione che mi ha lanciato velocemente sulla pagina dell'Enciclopedia Treccani. Detta anche Bau Bau Bau. Pancia fichista, ci dicono Vsms, era un termine fascista, che era definito come una deformazione denigratoria di pacifista, addirittura forse inventato dallo stesso Duce. Allora, sono fiondato sul sito di Bau 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 a controllare. Per la Treccani.it è un termine coniato allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Quindi, prima del fascismo, è utilizzato molto durante il fascismo per, insomma, per la stessa cosa. Ma non è un termine inventato durante il... Uno dei due tradici ventenni di questa nazione. Quello lì era interventista nella Prima Guerra Mondiale, quindi magari potrebbe anche esserci... Ma a noi che ci frega, anche ananasso era un termine fascista, ma ci piace da morire, invece di chiedere ananasso, o tosto, invece di tost. Mi vado a mangiare un tosto. Fra l'altro, quello havaiano è il tosto con l'ananasso, cioè il massimo proprio. E se vai veloce puoi dire, vado tosto a mangiarmi un tosto con l'ananasso. E fra l'altro, chiudiamo con il fatto che noi siamo tutti vestiti interamente in lanital. Ok? E finiamola qua, ragazzi. Finiamola. Pronto? 0233 001 001. Pronto? Non so perché stiano chiamando. Pronto? Mi senti? Ciao. Ciao, ciao, ciao. Sì. Ascolta, una domanda per il nostro maestro di Galateo. Sì. Dunque, se posso permettermi, che cosa ne pensa lui di Flavio Briatore? Ah, così. Ah, addirittura è proprio a lei. Non è lezioni di Galateo, è corsivista in genere. Vabbè, grazie, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Va bene. Naturalmente, scusami, Lapo, aspetta che ti rialzo il microfono. Prima di rispondere sappi che eventuali, anzi probabili querele, verranno affrontate con il tuo pool di avvocati. Ok, la radio si dissocia, prego. Naturalmente, dal punto di vista delle buone maniere, quella è la chiave di lettura. Ma naturalmente, io ringrazio il radioascoltatore per questa sapida domanda. Sono quelle che io preferisco in realtà. Ah, perché sono un po' così, sono urbi e torbi, erga omnes. Niente. Per cui... Allora... Latino a cazzo! Sono già due, ricordiamo che il terzo latinorum scatta il numero di telefono delle tue amiche. Delle escort. No! Fabio Briatore è un personaggio... Flavio... Flavio, scusami. Così, non prendiamo la coerente. Bravo, bravo. Flavio Briatore è un uomo, voglio dire, assai discutibile. Soprattutto in ordine alle sue attività. Voglio dire, quando uno ha un figlio certamente è messo sullo sconforto biologico, più o meno sullo scompenso. Però chiamare un figlio Nathan Falco evidentemente non rientra nell'alveo delle cose che il Galateo apprezza. E' la roba della barca che non pagava bene le tasse sulla benza. Com'era quella roba l'alveo? Allora, sappiamo che evadere il fisco è un'attività che il Galateo anche qui depreca. Però è anche vero che, soprattutto quando si è miliardari, se evadiamo un fisco perché guadagniamo 300 euro al mese forse siamo anche degli eroi. Mentre invece questo mi assumo la responsabilità di quello che dico, ma ci credo profondamente. Anche se ne guadagniamo mille. Mentre invece nel caso di Flavio, anzi Fabia Briatore, in questo caso potrebbe anche permettersi di non farlo. Ci ho detto che ha sposato questa Elisabetta Gregoraccia, mi pare si chiami, o Betty Gregoraccia, che anche lei ha un modo di vestirsi discutibile. Cosa dobbiamo dire? Vorremmo tutti essere come lui e passare la nostra vita al tuiga, no? O al milionaire o al bilionaire. Sai che anche no? Anche, beh, oddio. Secondo me per vorremmo tutti essere così è uno su quattro in questo studio. Ma io non lo so, se lei si vedesse circondato da signorine discinte, probabilmente, sì. Figurati. Eh, sì, sì, è così. Va bene, e la scaletta cosa propone adesso? La defenestrazione del maestro di Galateo, prima di tutto. Purché fatta da signorine in completino agent provocato. Senti, defenestrato, non è che per la settimana prossima ti sbatti tu a trovare un argomento di cronaca su cui disquisire sempre sotto l'occhio attento della lente di ingrandimento del Galateo? Sai che stai facendo scarica barile in questo momento? Un po' panciafichismo, eh? Un pochino. Sì, un pochino sì. Però devo dire che l'expertise del facco è stata, come anche dell'esimio collega, è stata eccezionale. Perché la cosa dei panini tosti, io non me la ricordavo più. Vi ricordate quando c'era scritto proprio sopra il bar c'era scritto panini tosti? No, te lo ricordi te che c'è cento anni. Eh, questo è vero. Allora, prossimo argomento saranno i panini tosti. Va bene, perfetto. L'autarchia secondo il codice delle buone maniere.